Andiamo verso Campo Imperatore e siamo nel distretto Terre della Baronia. Siamo nel Parco Gran Sasso, Monti della Laga, nella vegetazione stepposa del posto si notano anche questi piccoli laghetti di altura. E' un posto a dir poco affascinante. Con queste mucche al pascolo, sul pendio di questa montagna. Qui siamo a 1800 metri di altitudine. Oggi qui c'è una vera e propria processione di turisti. Una teoria musicante di bovini. A quest'ora vanno ad appeverarsi. Le mucche vengono guidate da tre cani maremmani abruzzesi. Grazie. 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 Bellezza selvaggia. qui una volta arrivava il ghiacciaio del gran sasso la piana di campo imperatore il piccolo tibet dell'appennino si estende per circa 20 chilometri di lunghezza e si apre tra i 5 e i 7 chilometri di larghezza sullo sfondo il gran sasso d'italia la montagna più alta degli appennini il ghiacciaio del gran sasso la piana di campo imperatore vista da ovest la piana di campo imperatore vista da ovest la piana di campo imperatore vista da ovest